Carlos Solito a Monte Sant'Angelo per la quinta edizione di Mond, il cui tema quest'anno è il ritorno a casa. Per te tornare a Monte Sant'Angelo è anche tornare a casa? Assolutamente, Monte Sant'Angelo è nelle mie corde da tanti anni e ritornare è sempre una grande scoperta, ma una scoperta in attesa che fa il paio tra l'altro con questo straordinario e ripetibile luogo che a differenza di tanti altri dove si corre, qui c'è proprio la celebrazione della lentezza e Monte Sant'Angelo nel suo candore dello Iugno, il centro storico, i monumenti resta sempre identica e questo è un bene, nel giorno, o meglio, nei giorni in cui tutti corrono, tutti sono assolutamente proiettati in maniera celere verso qualcosa che appunto è un futuro, però intanto anziché pensare al futuro godiamoci il presente, godiamoci Monte Sant'Angelo che resta così straordinariamente intatto. Monte Sant'Angelo è anche terra di grotte, tutto il Gargano lo è. Tu racconti le grotte, l'hai fatto con un libro e con un documentario, La profonda fantasia, viaggio dantesco nelle grotte di Puglia, come nasce questa esperienza? L'esperienza nasce dalla volontà appunto di raccontare nelle latitudini letterarie con il libro, troppa notte intorno a me, con il documentario La profonda fantasia questo straordinario lato della Puglia che c'è ma che non si vede, o meno si vede in parte e che assolutamente come tutti i luoghi immaginari e immaginati soprattutto è un luogo che merita la narrazione, merita l'attenzione e quindi i riflettori di un prodotto narrativo quale in questo caso il documentario che possa dare una dimensione a questi mondi sotterranei così poco noti, assolutamente relegati se vogliamo a leggende dal sapore medievale dove invece sono luoghi assolutamente straordinari, ricchi di stupore basti pensare caverne che sono simili a navate, decorate da stalattiti, stalagmiti e ancora pozzi voragini che non portano in nessun inferno bensì in un livello più basso della nostra terra, della nostra Puglia dove ci sono architetture scavate nel corso di milioni di anni da quello che può essere definito uno scultore antelitteram, ovvero l'acqua